Mister, qualche detenzione del primo minuto, hai dovuto rimaneggiare ed è arrivata la prossima Sì, è peccato per la prima sconfitta, prima o poi doveva arrivare, ma sono dispiaciuto perché abbiamo fatto comunque una partita, secondo me, come potevamo fare, con le forze che avevamo oggi ma potevamo fare molto meglio. Probabilmente ho sbagliato i cambi perché ho messo in difficoltà la squadra in un momento che probabilmente la partita potrebbe finire così e quindi ho cercato di fare dei cambi per andare a cercare la vittoria e sono stato subito punito, quindi questa è la legge, purtroppo, però i ragazzi non si vede niente perché i ragazzi effettivamente hanno faticato tanto, è stata una partita difficile, come sapevamo che fosse le forze erano diverse, al di là delle defezioni che abbiamo avuto di qualche malato nell'ultimo momento però insomma noi siamo una squadra che abbiamo nei componenti che possono giocare l'occorrente per vincere la partita di oggi non siamo riusciti pazienza Sì, si lavora, si lavora, si parte martedì, testa bassa, si lavora e si analizzerà sicuramente gli errori che abbiamo fatto ne abbiamo commessi oggi e si preparerà la partita con l'Este questo si fa ogni settimana, quindi cerchiamo di lavorare sempre serenamente tranquilli i nostri ragazzi sono i primi, siamo i primi a essere dispiaciuti ovviamente per la sconfitta ci tenevamo comunque a continuare a fare dei punti, così non è stato e alcune volte bisogna anche sapersi accontentare oggi ho fatto un errore, potevo anche accontentarmi a 10 minuti alla fine, non l'ho voluto fare e l'ho pagata quindi mi servirà di lezione grazie a tutti